A 18 anni dall'ultimo concorso tenuto nel 2003, la Giunta regionale ha deciso di mettere nuovo personale nel Corpo Forestale regionale che durante questi anni ha assunto nuovi importanti incarichi al servizio della popolazione. Un impegno costante non solo sul fronte incendi ma anche della difesa dell'ambiente a 360 gradi. In attuazione del piano triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, la Regione procederà a bandire una serie di concorsi che porteranno all'assunzione di nuove risorse, a cominciare da 78 agenti del Corpo Forestale. Un concorso riservato a candidati di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Nuove forze in campo in un settore particolarmente delicato che saranno impiegate nella difesa dei cittadini e del nostro immenso patrimonio ambientale, ha rilevato il Presidente della Regione, Cristian Solinas. Nei decenni intercorsi dalla sua istituzione, avvenuta con la legge regionale 26 del 5 novembre 1985, il Corpo Forestale, sottolinea il Presidente Solinas, ampiata notevolmente le proprie competenze, inizialmente indirizzate alla vigilanza su caccia, pesca e pascolo. Oggi abbraccia tutti i problemi ambientali, l'urbanistica, il paesaggio, i beni demaniali e quelli della salute pubblica, investendo dunque le competenze dei vari assessorati. È una struttura diffusa sul territorio regionale che opera attraverso 7 servizi territoriali, 82 stazioni forestali e 10 basi navali, conclude il Governatore Solinas. Recentemente il Corpo Forestale è passato alle dirette dipendenze della Presidenza della Regione. Il concorso sarà splettato secondo le disposizioni previste dalla legge istitutiva e si articolerà in una prova scritta, una prova orale pratica e per i candidati risultati idonei in un corso di formazione presso la Scuola Forestale regionale o in un altro istituto pubblico. Per l'acquisizione delle domande di partecipazione, considerato l'elevato numero previsto, la Regione si è dotata di una piattaforma informatica, Sardegna.concorsismart.it. Le domande potranno essere inoltrate a partire dal 21 ottobre fino al 22 novembre 2021. Tutti i dettagli sono stati pubblicati oggi sul Buras.